Una donna su tre e un uomo su cinque nella terza età si ammalano di osteoporosi, ovvero una riduzione della densità delle ossa che determina l'aumento della fragilità e il rischio di fratture. Una malattia silenziosa e asintomatica che sta diventando una vera e propria emergenza. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a rischio sono principalmente le donne bianche sopra i 65 anni e con una struttura corporea esile. La menopausa rappresenta uno spartiacque da monitorare, come ha rimarcato il presidente della società italiana Ortopedia e Traumatologia, il professor Francesco Falez. L'ortopedia oggi si trova a confrontarsi con un cambiamento sociale fondamentale, che è l'incremento significativo dell'età media della popolazione, che significa due aspetti fondamentali. Uno è l'ostoporosi e questa esita poi nelle fratture da fragilità e questa è oggi la più grande piaga sociale con la quale ci dobbiamo doversi confrontare perché gli ospedali sono sempre più affollati da persone anziane con queste problematiche e ovviamente poi tutte le problematiche correlate con la persona di questa età. Accanto a questo c'è sicuramente anche l'incremento delle attività svotte dalle persone in età adulta, quindi significatività sportive, relazioni e quant'altro, che aumentano significativamente tutti i traumi proprio legati a queste attività. Quindi è un cambiamento epocale per l'ortopedia che si trova ad affrontare sempre più spesso, richieste numerosissime sia in età adulta sia in età avanzata. Ecco, vogliamo dare qualche consiglio per cercare di preservare al meglio quelle che sono le situazioni delle ossa? La salute delle ossa va curata a benizio, fin da quando si è giovani, facendo molta attività sportiva, specialmente nelle donne, cercando di prevenire quelli che sono i cambiamenti ormonali legati alla menopausa, che determinano poi le condizioni postmenopausali di un'ostoporosi che va ad aggiungersi a quella fisiologica senile. Purtroppo c'è da dire che la menopausa è una patologia inevitabile, non possiamo evitarla e quindi come tale dobbiamo soltanto cercare di migliorare quelli che sono i percorsi terapeutici, i percorsi assistenziali. Quello che possiamo fare come consiglio? Sicuramente cercare di prevenire la sua occorrenza con una corretta alimentazione, una giusta attività fisica, ma fondamentalmente affidandosi anche a quelli che sono i pari, le indicazioni dei medici e dell'ortopedico che si occupa di questa cosa proprio per evitare un peggioramento.